Un sit-in di preoccupazione ha riunito questa mattina poco più di una ventina di residenti del quartiere di Torraccia dopo aver appreso nei giorni scorsi la notizia della delibera in consiglio comunale per la costruzione di un laboratorio sperimentale di biosicurezza BSL3. L'area selezionata è quella in via Furiasse a fianco dell'autostrada della Vitri Frigo Arena, facendo subito drizzare le antenne ai cittadini della zona. Il timore è dovuto alla possibile pericolosità che potrebbe generare un impianto di questo tipo, se paragonato al simile laboratorio di Wuhan di sicurezza addirittura superiore di livello BSL4. Sperimentazioni e manipolazioni che preoccupano anche per la realizzazione di stalle per gli allevamenti intensivi di grandi e piccoli animali in grado di garantire misure di contenimento nei confronti di agenti infettivi. Un laboratorio in una zona del genere rischia tantissimo. Se poi oltre al laboratorio c'è lo stallaggio mi viene da dire, partendo magari da una considerazione prettamente di tutela animale, che praticamente potrebbero veramente esserci problemi grossi anche di morte di animali se dovesse esontare il fiume. Poi siamo un'area altamente sismica, è un terreno soggetto a delle modifiche che siccome molti di questi laboratori hanno anche molto probabilmente ma quasi sicuramente delle cose sotterranee, siamo preoccupati per il dissesto. La mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione fa temere ancora di più ai cittadini che in fondo ci siano esclusivamente benefici economici e non ambientali. Noi abbiamo avuto questa notizia, proprio ci è arrivata per puro caso, crediamo veramente a un miracolo dal cielo perché se nessuno leggeva quell'articolo, come purtroppo oggi, anche per motivi di tempo si legge poco, non ne venivamo a conoscenza. Ne siamo venuti a conoscenza e la prima cosa ci è venuto da dire, ma è un quartiere altamente popolato, anche se di nuova costruzione, pieno di bambini, il che già questo dovrebbe veramente preoccupare e far rizzare i capelli. E mi chiedo in coscienza, io credo che chi ha sponsorizzato questo progetto abbia dei figli, quindi io voglio sperare in un po' di sensibilità da parte loro per cambiare un pochino le cose. A sostenere il malcontento degli abitanti di Torraccia riuniti questa mattina c'era anche la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Lisetta Sperindei, che si è espressa in maniera contraria appena prese il significato del testo letto in consiglio. L'ho preso in consiglio comunale il testo di questa delibera, l'assessore Puzzi ha spiegato ampiamente di che cosa si trattava, ha ripetuto quello che c'è scritto nella delibera, che sarà un laboratorio sperimentale, profilattico, e quindi il richiamo a Wuhan si fa svolto a fare, sarà di sicurezza 3, quindi di Wuhan 4, eppure il che vuol dire che era ancora più sicuro, eppure è successo quello che è successo. Allora, io sono contraria che si faccia e tanti cittadini si sono allarmati lo stesso, perché l'idea di avere un laboratorio di queste estensioni, di questo livello, non dico in centro città, ma insomma ci manca poco che se non sia il centro, vicino al fiume Foglia, dove ci sono due casse di espansione, una posizione veramente infelice, e poi il terreno è tanto, oltretutto è stato venduto ad un prezzo inferiore al valore, per carità, lo so che fra enti pubblici è una cosa fattibile, si può fare proprio per leggi, però non è che sia obbligatorio. La notizia casualmente l'ho acquisita io, attraverso un video del dottor Joseph Tritto, che parlando di biolaboratori ha praticamente reso pubblico che sarebbe stato aperto un biolaboratorio a Pesaro di questo genere. E' partita, diciamo, ha partito il mio allarme su una megachat, è stata raccolta da queste persone che hanno attivamente e velocemente lavorato su indagini. Spiegazioni, trasparenza e confronto con il sindaco e con l'amministrazione comunale sono le richieste dei cittadini. Se il percorso andasse avanti noi decideremo volta per volta cosa fare, perché in ogni caso bisogna vedere come va avanti e di che cosa si tratterà fino in fondo. Noi chiederemo veramente di essere ricevuti dal sindaco per avere qualche delucidazione di più, perché se anche il sindaco in questo frangente, visto che adesso inizia ad essere una cosa che è finita sui giornali, ci piacerebbe che ci fosse data un minimo di udienza, ma soprattutto ci venisse chiarito fino in fondo. In base a quello noi andremo avanti, secondo gli step, ovviamente in modo civile, perché siamo persone civili ma altamente preoccupate.